Vecchi Vemni e Tsai Inno Senza Tempo Un vecchio industriale giunto oramai in fin di vita decide di convocare il nipote, suo unico erede, per l'ultimo saluto. Caro nipote, sento che sto per andarmene. Così ho deciso di lasciarti tutta la mia eredità. Oh zio, non so proprio come ringraziarti. Cosa posso fare per te? Tanto per cominciare, leva il piede dal tubo dell'ossigeno. Due vecchi pensionati sono sulla panchina di un parco, intenti a rimembrare i bei tempi andati. Pensa che quando ero a scuola io, ad una gara interscolastica, scagliando il giavellotto a più di 60 metri, ho preso una medaglia. Cavolo che mira! Un anziano ultracentenario si reca dal medico. Dottore, lei mi dovrebbe aiutare. Quale sarebbe il suo problema? Ho ormai 103 anni e corro ancora dietro alle ragazze. E allora? Dovrebbe essere contento. Questo è un segno di vitalità. Sì, però non mi ricordo perché gli corro dietro.